salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video quest'oggi andremo a vedere come eseguire al pieno la modalità 1 della nostra calcolatrice nella modalità 1 se la modalità computazionale comp potremmo andare a fare i normali calcoli come ad esempio una radice quadrata l'elevazione di un numero a potenza come 4 alla ad esempio un mezzo che appunto la radice quadrata se vi siete persi come inserire i numeri in maniera naturale in questo modo vi lascio al video precedente e intanto vi ricordo di iscrivervi e di lasciare un mi piace allora ragazzi possiamo continuare facendo vedere ad esempio qualche elevazione al quadrato elevazione a potenza eseguire la radice ad esempio cubica di un numero si fa ad esempio 27 che dovrebbe da E3 shift radical ok shift radical c'è la radice cubica di 27 e 3 poi ad esempio se vogliamo fare la radice ennesima quindi shift x alla e andiamo a fare esempio radice cubica di 27 ed esce 3 possiamo fare il logaritmo ln che logaritmo in base e quindi ad esempio in base di e e si fa con alfa x 10 alla x sarà 1 ovviamente perché logaritmo della base poi andremo a vedere anche altre funzioni come ad esempio potremo fare un integrale definito con gli estremi di integrazione la funzione da da integrare appunto ci darà il risultato dell'integrale definito il logaritmo in una base che per esempio il logaritmo in base 2 di 2 che mi da 1 ovviamente e la sommatoria per esempio per x che va da 0 a 2 ad esempio tx ecco qua x che metto come alfa parentesi chiusa sarà 3 perché ora vi faccio vedere che cosa avrà scritto lui avrà scritto praticamente 0 che la prima x più 1 più 2 è proprio la sommatoria che abbiamo fatto vedere quindi 3 ovviamente poi vi faccio vedere questo ma molto banale segno meno in pratica ci darà il segno opposto del numero poi vi faccio vedere anche la possibilità da parte di questa calcolatrice in questa modalità di risolvere equazioni di primo grado come x 8 uguale 4 ovviamente x in questo caso dovrà essere un mezzo basterà fare shift calc solve for x perdonatemi ho sbagliato la sintassi perché non è shift calc ma calc e basta quindi 8 x uguale a 4 ok ci troverà che x è uguale a 0,5 poi ci sono delle delle elevazioni molto molto banali come x alla meno 1 che questa qua in alto a destra che come possiamo vedere che appunto andando ad elevare la meno 1 tutto ci cavalgerà ad esempio una frazione e potremo fare le funzioni trigonometriche semplici come seno il coseno la tangente potremo andare anche a fare delle assegnazioni a variabile ad esempio se noi avremmo questa equazione a per b più c e vogliamo calcolarla dove a e b e c sono dei numeri abbastanza complessi cioè lunghi magari vogliamo scriverla così oppure vogliamo semplicemente accorciare display cosa facciamo mettiamo che a sia uguale a 2 b uguale a 4 e c uguale a 8 giusto per essere proporzionale per capirci metto più scrivo 2 poi dopo faccio shift rcl e assegno senza premere null'altro alla variabile a come possiamo vedere c'è un segno di assegnamento che assegna 2 alla variabile che scrivo 4 shift rcl b e assegna b poi dopo di che ho spento la quadrice senza volere quindi 2 rcl a 4 rcl b e 8 rcl cesto in verità ci dopodiché andiamo a scrivere la nostra equazione come a per b più c ed eccoci qui risultato 2 per 4 più 8 quindi appunto 8 più 8 16 ci troviamo poi potremmo anche convertire ad esempio un risultato come sempre se noi facessimo l'arco seno di un mezzo ci uscirebbe 30 ok nel caso in cui il numero non fosse preciso ad esempio mettessimo 0,6 ok questa qua è l'espressione dei gradi in gradi appunto sessagesimali ma con la parte decimale quindi ci sarà una prima parte in sessagesimale il resto in decimale per avere tutto qua nel sessagesimale basta premere questo tastino questo qui dove sopra c'è la b e ci usciranno i primi secondi molto comodo per convertire diciamo un'unità di misura internazionale poi con shift seno shift coseno shift tangente si fanno gli archi vero arco tangente arco coseno e arco seno dopodiché con shift hype si fa il valore assoluto ad esempio valore assoluto di meno 8 c da 8 detto anche modulo potete trovarlo anche sotto questa forma bene ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo in un prossimo video vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale di lasciare un mi piace e di attivare la campanella delle notifiche farmi sapere qui sotto nei commenti se questo video vi è piaciuto e se vi è stato utile ciao